Noemi e il suo ragazzo vivono a Nuova Ostia, in queste palazzine del costruttore Armellini. Hai sempre vissuto qua? Io sì, sono 19 anni che abita ad Ostia. Fai i lavori? Io sì, faccio le pulizie delle volte, mi arrangio. Vivi con il tuo compagno? Io vivo così con il mio compagno, mia mamma, il mio fratello e il compagno di mia mamma. E mia cognata che è anche in C. Tutti a casa? Tutti a casa, la stessa casa, una casa un po' più piccolina di quelle che siamo le persone, non c'è lo spazio per tutti. Quando questi giorni hai visto venire tutti qua per dire... Sì, Spada, l'illegalità non la vogliamo più. Come la penso io, conosco benissimo Roberto Spada e per me è una bravissima persona. Sono bravi persone, hanno delle palestre, aiutano, fanno allenare dei ragazzi che non hanno l'opportunità. Infatti avevo chiesto a Roberto Spada per mio fratello piccolo e mi ha detto che se non avevo... Quanti anni ha tuo fratello? Il fratello ne ha otto. Se non avevo la possibilità potevo andare nella sua palestra senza ovviamente pagare nulla, cosa che se era un mafioso ci voleva guadagnare in tutto ciò. Io non seguo molto la politica, però io ho votato Casa Pound. Ho votato per dare una chance in più a chi magari invece non me la... Io voglio dare una chance a me. Che vuole fare? Perché si vede che vuole fare, che vuole aiutare, che vuole aggiustare, che vuole pulire. Per esempio, tutto rotto, tutto abbandonato. Viene un turista, guarda qui, dice questo qua è un luogo abbandonato, più benevato, è normale. E tu dici, la situazione in cui vivi adesso non ti permette di fare quasi niente? Ho fatto decavolare quando ero minorenne, ero più ragazzetto, non ce l'ho la destra sulle spalle. Ma che hai fatto dentro? Eh, è il primo reato, 14 anni, mi hanno dato 4 anni in 10 mesi. Un ragazzino 14 anni non può essere punito per una rapina. E ti piacerebbe fare? A me piacerebbe avere un lavoro, una casa, un piccolo affitto, come tutte le persone, ma vivere bene. Una vita normale, una vita serena come una persona cristiana, come la vuole, come tutti. Mai hanno detto che arriva alla fine del mondo, la fine del mondo è questa, è quello che ci stanno rovinando, diciamo, proprio la sopravvivenza delle persone. Non ci sarebbe la m***a.